Senatore Gavino Angus, ex parlamentare, nel corso della sua carriera politica si è occupato di politica internazionale ed emigrazione. Una sua visione e una sua fotografia sul momento? In realtà mi sono occupato anche d'altro, ma non tantissimo, di politica internazionale. Però quello che posso dire è questo, che non da oggi, ma anche per effetto della globalizzazione selvaggia, di una globalizzazione selvaggia, noi viviamo sotto i nostri occhi un enorme spostamento di milioni di esseri umani dai paesi del terzo. Il quarto mondo nei paesi in via di sviluppo, che si detengono in via di sviluppo, che fuggono dalle guerre, ma anche dalla fame, dal bisogno e comunque in cerca di una vita migliore. Questo è il segno delle disuguaglianze profonde che soccano il mondo contemporaneo, è il segno a cui è arrivato un liberismo sfrenato, un capitalismo che sta producendo dei danni enormi sotto il profilo umano, ambientale, economico e sociale. Quindi ci troviamo di fronte a un dramma epocale. Grazie.